E parte anche questa finale, Cantu davanti, due atleti da Cantu davanti a guidare il gruppo Siamo arrivati! Bellusco, Ampillain, Cantu, davanti Suorla Gabbana nel prossimo giro, punti Bellusco, Ampillain, Cantu Provano a rimanere davanti Questi atleti L'ultima curva per l'assegnazione dei primi punti Ampillain Dovrebbe essere davanti, anzi no no no, ma ben due atleti dell'Ampillain Numero 50 e numero 87 per i punti Ragazzi che si sono staccati quindi hanno creato come in margine tra loro il gruppo Mi ricordo che questo è subito la finale quindi sono partiti la ragazza Ampillain per giocarsi in questa finale Ci sono invertiti i ruoli 87, Siviglia passa per i due punti e Ricca un punto collections per Gabbana nel prossimo giro Bovero 89! Giuseppe guarda l'ato Ancora due attività in line, davanti, vediamo chi sarà il primo a tagliare il traguardo. 50, Ricca, 87, Siviglia. 5 punti Ricca, 4 punti Siviglia. Quindi la ragazza della pila è sempre una vera messa in giro, ma si assegnano sempre punti, si assegnano sempre punti. Quindi, numero 1 fermato, ha detto che è in intacco ancora, c'è una caduta per uscire la ultima curva a passaggio. Ancora Mattia Ricca, 2 punti, 1 punto per il numero 3. Il 1 punto per il numero 3. 2 punti, 1 punti, 1 punto, 2 punti, 2 punti, 2 punti. Guadagnarsi tre punti finali, ma Ricca risponde all'attacco in interno e lo strifinale per gli ultimi punti, anche per cercare di difendere le proprie compagnie. Prende tre punti con Ricca.